Ehi tu, guarda questo video fino alla fine perché all'interno di questo video vi darò la possibilità di guadagnare 10 euro in modo completamente gratuito. Guardate tutto il video per capire come guadagnare questi soldi. Negli ultimi anni l'inflazione è salita praticamente alle stelle, infatti anno dopo anno il valore dei tuoi soldi in banca diminuisce sempre di più. Ed uno dei metodi per ovviare a questo problema è proprio investire i propri soldi. Ci sono tantissimi metodi di investimento ed uno dei più utilizzati è proprio quello di investire in azioni, indici, etf e così via. Sicuramente almeno una volta avete sentito parlare di investire in borsa. Ebbene sì, eccovi un tutorial completamente gratuito che vi permetterà di muovere i primi passi all'interno di questo mondo. Poiché dovete capire che tenere tutti i soldi all'interno di un conto bancario è la cosa più sbagliata in assoluto, proprio della questione dell'inflazione. Ma cosa significa investire in borsa, investire in azioni, indici? Cosa sono queste cose? Iniziamo prima a capire che cos'è un'azione. Immaginiamo di avere davanti a noi un muro gigante. Beh, questo muro rappresenta l'azienda di Amazon. Acquistando delle azioni di Amazon noi non andiamo a fare altro che acquistare un piccolo mattone di quell'azienda. E se l'azienda col tempo fattura e andrà bene, il valore di quel mattone può aumentare negli anni. Mentre se diminuisce potremo anche andare a perdere dei soldi. Ci sono tantissime aziende che nel corso degli anni hanno aumentato il loro valore. Prendiamo in considerazione le azioni di Amazon, Tesla, Facebook, Google e così via. Hanno aumentato il valore nel tempo. E quindi poteva essere un ottimo investimento per combattere l'inflazione. E oltre alle azioni un'altra cosa che bisogna assolutamente prendere in considerazione sono gli indici. Gli indici non sono nient'altro che un paniere de' azioni. E l'indice più famoso in assoluto è l'SP500. Che nel corso degli anni non ha fatto altro che aumentare il proprio valore. L'SP500 rappresenta in questo caso le 500 aziende statunitensi per maggiore capitalizzazione. Quindi capite che andare ad investire in una sola azienda acquistando le sue azioni è differente rispetto ad andare ad investire all'interno di un indice che rappresenta più aziende. Che ci permette anche di diversificare in parte il nostro investimento. Sì Luca ma come si fa ad investire in borsa? Per investire in borsa dobbiamo andare ad utilizzare un broker. Ossia una piattaforma che fa da intermediario. Che ci permette di poter andare ad acquistare azioni reali. Ed è proprio per questo che oggi voglio parlarvi di XTB. Oltre ad essere un broker dove noi possiamo andare a fare anche trading utilizzando i CFD. Possiamo anche andare ad investire in azioni. Quindi facendoci un portafoglio. E attenzione guardate questo video fino alla fine perché non voglio solamente spiegarvi dei concetti. Ma voglio anche indirizzarvi ad un videocorso completamente gratuito. Non dovete pagare assolutamente nulla. Quindi mi raccomando restate incollati. XTB quindi ci permette di investire in più di 5800 strumenti in tutto il mondo. E adesso vedremo come investire in azioni. Come sia possibile. Dopo aver effettuato la registrazione a questa piattaforma. Vi lascio comunque il link in descrizione. Avrete la possibilità di andare a ricercare un determinato asset. E tra l'altro, cosa molto importante, possiamo andare ad utilizzare anche un conto demo. Quindi un conto completamente gratuito. Così da fare semplicemente un'esercitazione senza rischiare neanche un centesimo. Possiamo andare a vedere che andando a ricercare una determinata azienda, ad esempio Apple. Andandola a selezionare possiamo andare ad acquistare le sue azioni reali. Andando appunto a selezionare una determinata quantità di azioni da acquistare. Dopodiché ce le ritroveremo all'interno del nostro portafoglio. E nel momento in cui la società di Apple lavora bene e fattura sempre di più. Le azioni di questa società cresceranno facendoci aumentare anche il valore delle azioni acquistate. Dopodiché rivendendo le azioni possiamo andare a trarre un guadagno. E naturalmente oltre alle azioni possiamo anche andare ad investire in indice. Andando a prendere in considerazione l'SP500. E qui possiamo anche andare a fare una breve analisi del grafico. Così da andare a visualizzare una determinata azienda. Il rendimento che ha avuto nel lungo periodo. Ma sicuramente ci saranno anche tante persone che dopo questo video non sanno praticamente come fare. Tranquilli perché ho la soluzione per voi. Poiché non posso spiegare tutto in un unico contenuto. Infatti entrando all'interno sempre della piattaforma di XTV. Troverete la sezione Academy. Qui signori ci sono videocorsi completamente gratuiti. Che potresti andare a visualizzare. Sul mondo degli investimenti partendo completamente da zero. Che lì fuori vi farebbero pagare migliaia di euro. Quindi conviene assolutamente. Adesso prima di terminare questo video voglio parlarvi anche di uno strumento davvero molto ma molto interessante. Per investire in azioni presente all'interno della piattaforma di XTB. Ossia stock scanner che potete trovare all'interno di questa sezione. Attraverso questo strumento possiamo andare a ricercare determinate aziende per diverse categorie. Ad esempio possiamo andare a prendere in considerazione la capitalizzazione di mercato. Il dividend yield che è molto ma molto importante. E tantissimi altri parametri. E possiamo anche andarli a dividere per categoria. Quindi signori io spero vivamente che questo video vi sia stato utile. Soprattutto ringrazio XTB per aver sponsorizzato questo video. Adesso l'unica cosa che vi resta fare secondo il mio parere. E iscrivervi a questa piattaforma. E andare a studiare all'interno della sezione formazione. Perché ci sono centinaia di lezioni completamente gratuite che sicuramente potrebbero fare al caso vostro. Sia per quanto riguarda gli investimenti e sia per quanto riguarda il trading online. Bene, adesso per poter guadagnare 10 euro in modo completamente gratuito. L'unica cosa che dovete fare è lasciare un bel like a questo video. Iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. E commentare questo video. Dopodiché dopo 7 giorni andrò a sorteggiare 2 persone a cui regalerò 10 euro gratis. E il sorteggio lo pubblicherò all'interno di Instagram. Quindi se vuoi partecipare a questo fantastico contest ti basta lasciare un like, iscriverti e commentare questo video. Ciao!